Esca Bellezza, direttore generale del gruppo Esedra, un gruppo che trasmette, insegna la cultura attraverso la scuola. Insomma, bello questo nuovo progetto aperto alle scuole medie, no? Perché poi le altre c'erano già. È un progetto innovativo, è l'ennesimo progetto innovativo. Esedra ormai da 40 anni fa scuola, non solo a Lucca ma in molte province della Toscana Marittima e ormai da 10 anni abbiamo attivato tutta una serie di progetti per rendere più pronti gli studenti al mondo che li aspetta, che cambia molto velocemente. Per far questo abbiamo utilizzato consulenti, pedagogisti, tutto uno staff di esperti che negli anni ci hanno aiutato a capire su quali direttrici muovere la nostra innovazione didattica e metodologica. Le scuole medie che dal prossimo anno partiranno sono l'ultimo anello perché abbiamo iniziato con il nido ormai più di 10 anni fa, abbiamo proseguito con la scuola dell'infanzia che prima era tradizionale, poi abbiamo trasformato in una scuola dell'infanzia bilingue e dall'anno scorso anche con una sezione totalmente in inglese per poi continuare con la scuola primaria, la English Primary School che ha un progetto ambiziosissimo ormai al quinto anno per cui si fa inglese al 50% del tempo. I bambini escono effettivamente molto vicini al bilinguismo con un inglese eccellente e poi due anni fa abbiamo avuto l'onore dal Ministero di essere incaricati a sviluppare il progetto del liceo internazionale quadriennale anche questo l'abbiamo portato avanti con una grande attenzione all'internazionalità e alle lingue straniere che per noi sono due capisalti importantissimi per gli studenti, per renderli pronti al loro futuro, al mondo di domani Quindi un percorso che nasce da lontano, perché non è così che una mattina vi siete svegliati facciamo un percorso che insomma già ho capito, aperti al bilinguismo già dal bambino piccolo Molto piccolo, sì, è un percorso molto complicato, fare scuola è molto complesso, abbiamo delle grandi responsabilità per il territorio ma siamo convinti che la scuola abbia per un territorio un ruolo strategico perché forma le menti, ha a che fare con l'etica, gli studenti hanno bisogno di modelli, cambia tutto molto velocemente quindi hanno bisogno di certezze, di sicurezze e di modelli fermi, di valori solidi su cui poter contare per il loro sviluppo anche dal punto di vista proprio dell'individualità anche questi cardini sono molto, siamo molto attenti anche a questo tipo di sviluppo personale soprattutto nella fase dell'adolescenza